Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 23 gennaio 2017 in diretta alle 7.30 sul canale 17 di Fano TV questa è l'occhiata ai giornali che diamo tutte le mattine dal lunedì al sabato cominciamo dal santo di oggi, oggi la chiesa cattolica ricorda Santa Merenziana Vergine il sole sorto alle 7.34 tramonterà le 17.06 la grafica da geometeo.it per le previsioni del tempo di oggi mattina e pomeriggio e sera, vedete il tempo è nuvoloso con possibilità di pioggia durante la giornata e pioggia mista a neve nell'entroterra nello specifico al mattino avremo cielo in prevalenza nuvoloso con fenomeni sparsi in particolare al primo mattino neve in appennino al di sopra dei 1200-1400 metri il pomeriggio invece cielo ancora in genere nuvoloso con locali precipitazioni sparsi che potranno assumere carattere nevoso sui rilievi al di sopra dei 1200-1400 metri nella notte durante la serata ancora nuvoloso con possibili fenomeni sparsi che tenderanno a localizzarsi nei settori centro-meridionali le temperature sono stazionari in rievo ulteriore aumento con valori di poco al di sopra della media per quanto riguarda invece la giornata di domani andiamo sul bollettino della protezione civile questo di martedì cielo nuvoloso con schierite sempre più ampie nella seconda parte della giornata i fenomeni sono residui al mattino domani sul settore meridionale in particolare quello montano nevicate al di sopra dei 900-1000 metri le temperature sono in diminuzione cominciamo con la cronaca in primo piano c'è la tragedia che ha colpito una famiglia di Ponte Sasso dove viveva un giovane di 24 anni che l'altra sera si è schiantato ed è morto ieri pomeriggio in ospedale un terribile schianto, muore a 24 anni, questo è il titolo sulla pagina della Valle del Cesano del Corriere Adriatico non ce l'ha fatta Jacopo Monaldi coinvolto sulla moto nello scontro con un'auto sabato sera sulla Adriatica il decesso all'ospedale regionale un pugile e bagnino di salvataggio pieno di energie e di vita shock a Ponte Sasso l'incrocio con la cesanense l'automobilista nel senso opposto svoltava a sinistra adesso ci sono gli accertamenti dei carabinieri le sue condizioni erano apparse subito gravi l'annuncio ferrale dopo 22 ore di ansia ancora incerta la data in cui si svolgeranno i funerali in attesa che giunga dalla magistratura il nulla osta per le esequie e i ragazzi, gli amici, ne aveva tanti un ragazzo speciale, gli amici ammutoliti appassionato di mare, montagne e viaggi amava affrontare le sfide ed ecco un profilo e la notizia anche sul resto del Carlino la moto si schianta contro l'auto Jacopo morto dopo un giorno di agonia lo scontro sabato sera a Marotta il decesso alle 18 di ieri faceva anche il pugile questo ragazzo gareggiava nella categoria Welter e a Fabriano ha vinto anche nel settembre scorso il punto in cui c'è stato l'impatto l'incrocio dove ha perso la vita questo giovane che a soli pensate vent'anni lui ne aveva ventiquattro ma a vent'anni vivendo e cibandosi di poco una delle sue imprese aveva vissuto nel deserto australiano poi in Norvegia tra merluzzi da inscatolare e ragazzo delle bombole da portare nei fondali, ai sub che pescavano coralli lui c'era era un ragazzo così Jacopo Munaldi celibe di Ponte Sasso di Fano che stava percorrendo ieri con la sua moto Yamaha sulla statale 16 in direzione Senigallia dopo circa le 20.40 improvvisamente si è trovato nella traiettoria una Opel Zafira condotta da un 47enne di Mondolfo che proveniva dal senso opposto e che stava svoltando a sinistra per imboccare sulla cesanese ancora notizie dai quotidiani andiamo avanti la pagina di Fano il programma del carnevale che è in forte ritardo il carnevale così non si sostiene dice Boris Rappa consigliere regionale per attirare il pubblico la manifestazione dice Rappa sia legata ai beni culturali vuole una svolta il consigliere regionale eventi da promuovere l'estate precedente gli appuntamenti annunciati appena dieci giorni prima ai turisti offerte di qualità e c'è anche un torneo di frisbee in maschera organizzata dalla fanese UFA alla vigilia della sfilata dei carri le iscrizioni entro il 14 di febbraio sempre sulle pagine di Fano del Corriere due nuove linee di scuola bus il comune non chiede i danni di servizi all'inizio delle elezioni compensati con l'aumento dei costi per l'azienda l'azienda Tundo di Lecce aveva vinto l'appalto per quattro anni ma non conosceva il nostro territorio per questo ci furono tanti disservizi mentre sotto viabilità e zona industriale c'è un'assemblea questa sera a Bellocchi di Fano alle ore 21 a Villa dell'Aide in via Chiaruccia è un'assemblea è un appuntamento aperto a tutti la riunione convocata dai cittadini si parlerà anche del verde e poi ancora dalla cronaca della cronaca del Corriere Adriatico da Pesaro e Provincia l'entusiasmo di Ivan Cottini contagia pure il canale Sky ospite di Sunday Morning su Sport HD il sostegno di Magnini e di Ambrosini lo vedete qui mentre Ivan Cottini a Sky con Meloccaro mentre sotto è con Dicanio e Costa Curta la pagina di Urbino invece è un assalto alla montagna in 15.000 sul Carpegna entusiasta il presidente della Proloco un'affluenza da record anche sul Monte Nerone con disagi vari mentre sul Catria l'impianto riapre oggi dopo la chiusura di ieri della funivia per timore di disservizi sulla linea elettrica devono intervenire i carabinieri per bloccare l'accesso da Serravalle alle auto non attrezzate con catene la cronaca da Senigallia invece lo spray urticante al concerto rischia lo shock anafilatico questo è il titolo tre intossicati c'è anche una ragazza di 16 anni che era allergica al peperoncino ed è stato sgomberato così il Mamma Mia che è stato appunto parzialmente evacuato sabato notte dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante al peperoncino in mezzo alla folla tre ragazzi tre in particolare sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso tra cui una sedicenne che era allergica al peperoncino nulla di grave però sono tutti stati dimessi poche ore più tardi l'emergenza si è verificata poco dopo la mezzanotte durante il concerto di un rapper e un'auto un'auto che invece è piombata contro un ciclista che stava andando insieme ad un gruppo di amici come quelli che se ne incontrano tantissimi durante il giorno in particolare la domenica un'auto sul gruppo di ciclisti un ferito grave sull'Arceviese uno scontro a Bettolelle sotto shock gli amici di un 51enne ricoverato a Torrete si tratta di un 51enne del Pesarese che stava facendo un giro in bicicletta insieme ad altri amici tutti con i loro veicoli da corsa quando all'improvviso una macchina lo ha urtato facendolo finire a terra del gruppo è rimasto ferito soltanto lui l'elioambulanza è terrata sul campo nel campo lì vicino ci vorranno adesso 48 ore per sciogliere praticamente la prognosi e adesso invece andiamo a vedere il titolo della fotonotizia in primo piano sul resto del Carlino che anche qui è per il giovane di Ponte Sasso morire a 24 anni questa è la fotografia il titolo Jacopo Monaldi di Ponte Sasso si schianta in sella la sua Yamaha 600 contro una macchina lungo la Stata Lamarotta faceva il bagnino era un atleta pugile alpinista girava il mondo il decesso dopo circa un giorno di agonia di spalla vedete i titoli brevi benedizioni a Pesaro e a Gabice piazze piene di animali lo vedremo tra un istante poi polveri sottili la centralina è in tilt nessuno si muove per ripararla da fine dicembre l'impianto del parco Scarpellini non registra i dati sullo smog e allora andiamo ripartiamo dalle polveri sottili le centraline ormai sono un optional quella del parco Scarpellini non funziona da fine dicembre ma nessuno la ripara un'anomalia l'impianto del parco registra più inquinanti di quello di Fano sulla statale e poi ancora dal resto del Carlino la piazza del popolo di Pesaro come l'arca di Noè guardate le fotografie con cavalli asini gatti cani tutti benedetti nella parata anche una capra ospiti anche dalla vicina Romagna partenza dal parco Miralfiore poi carote e pane per gli amici dell'uomo fino al saluto e poi chiaramente alla benedizione del sacerdote questa è la cronaca di una giornata quella di ieri mentre oggi c'è in consiglio a Pesaro un consiglio monotematico sulla sanità ci saranno anche Ceriscioli e Maria Capalbo mentre Marche Nord vorrà rivendicare i suoi progressi restano i problemi territoriali e questa è la notizia che trovate appunto sulla pagina del resto del Carlino di Pesaro che oggi esce essendo lunedì con l'inserto sportivo quindi sono poche le notizie po' meno rispetto alle notizie rispetto agli altri giorni però insomma ci sono i controlli di quartieri servono questo è Fano Conter di Fratelli d'Italia sollecita il comune ad aderire all'associazione nazionale si parla del problema dei furti e poi sempre da Fano ha battuto un cormorano di fronte all'oasi dei stagni urbani di fronte all'oasi dei stagni urbani lungo il fiume Metauro è stato ritrovato ieri davanti al cancello d'ingresso un cormorano morto la rassegna stampa del 2D finisce qua non c'è altro noi ci rivediamo stasera alle 20 e 30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e quindi con tutte le notizie che arriveranno nel corso della giornata e vi ricordo che il nostro numero di telefono 0721 0721 14 33 è a vostra disposizione non solo per le segnalazioni ma anche se doveste avere ancora dei problemi di sintonizzazione del canale ecco se avete amici che ancora o vicini di casa che ancora hanno qualche difficoltà nella ricezione del canale chiamateci pure all'86 14 33 per tutto il resto c'è il nostro numero di telefono portatile 338 49 68 250 sempre disponibile anche con Whatsapp per le vostre segnalazioni con video foto e testi messaggi noi ci fermiamo qui a voi tutti gli auguri di una buona giornata grazie a tutti